Come impostare così come dispositivo audio predefinito sul tuo computer, in questo caso se usi sempre lo stesso dispositivo come le cuffie per giocare o ascoltare musica e all'improvviso non funzionano più, può essere che sia il tolto come dispositivo predefinito sul tuo sistema. In questo caso per risolvere il problema possiamo andare direttamente sul pannello di controllo, quindi scrivi qua sopra pannello di controllo, scrivi qua sopra audio ed eccolo qua, cambia impostazioni, scheda audio ed ecco qua le nostre schede audio di produzione. Questi sono gli altoparlanti, questo qua invece è il mio monitor Dell con le casse collegate, in questo caso quest'altro invece è un altro dispositivo audio, questo invece per bustare l'audio. Questo qua è l'altoparlante che io uso per ascoltare musica e per giocare con le cuffie, quindi tasto destro sopra, imposta come dispositivo predefinito, una volta impostato ed eccolo qua, dispositivo multimediale predefinito. E questo qua invece per bustare l'audio come ho detto è impostato già automaticamente, quindi tu basta che ci clicchi sopra, impostarlo come dispositivo predefinito. Se invece vuoi impostarlo come dispositivo di comunicazione, tipo quando devi parlare con qualcuno su whatsapp o discord, clicca questo sopra, imposta come dispositivo di comunicazione predefinito ed eccolo qua. O alcune chiamate che fai sul computer. Per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial, ciao!